Grazie Presidente, in questo caso facciamo riferimento alle strutture presenti all'interno dei parchi e delle ville storiche che abbiamo trattato anche in questo caso nei due anni di Commissione Sport, ma devo ricordare anche il lavoro della precedente consigliatura avviato dall'allora Presidente della Commissione Razionalizzazione della Spesa, Daniele Frongia, con il quale abbiamo individuato decine e decine di immobili, in alcuni casi occupati abusivamente, in altri semplicemente inutilizzati, presenti all'interno delle ville, dei parchi storici della città, nei quali si potrebbero fare tante attività, comprese attività sportive, ma ovviamente non solo, e per questi nell'emendamento che è stato presentato chiediamo di pubblicare un bando per assegnarle entro il 30 giugno e aggiudicarle entro la fine dell'anno. Poi c'è un altro riferimento anche ai bagni pubblici, un altro tema importante trattato in Commissione Congiunta con Ambiente e infine il progetto avviato insieme al Municipio Terzo con l'allora Presidente Capoccioni che riguarda il Parco delle Valli. Grazie.